Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 940 di One Piece, spiegare cos'è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Questo capitolo ha messo le basi finali, secondo me, per la rivoluzione che verrà. Però, come sempre, non tutto va secondo i piani stabiliti. Ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Il capitolo inizia facendoci vedere un l'uovo alquanto arrabbiato. Infatti la supernova parla della fiducia e afferma che un'alleanza senza di essa non ha ragione di esistere. Sicuramente Trafalgar sta andando a liberare i suoi uomini, nonostante sia palesemente una trappola, ma se riuscisse nell'intento non libererebbe solo Beppo e Company, ma anche gli altri rivoltosi che erano stati catturati insieme a quest'ultimi. E se accadesse ciò, avremmo sicuramente un altro schieramento, ovvero quello di l'uovo, perché se liberasse tutta quella gente essi starebbero dalla sua parte, dato che verrà rispettato ed onorato perché sarà stato lui a liberarli. Oppure Trafalgar l'uovo si farà catturare e fine. Continuando, una strana vecchietta racconta la verità dietro a Bingou, Bongou e Bungou. Infatti loro tre erano soci in affari. Più che affari, si trattava di un giro di truffe ed inganni, che servivano per ottenere denaro approfittandosi della brava gente della capitale. E con questi soldi sporchi che guadagnavano, pagavano gli ufficiali dello Shogun. Così facendo, l'avrebbero sempre fatta franca, senza essere mai incolpati. Ma stranamente, tutte e tre si innamorarono follemente di Komunasaki, donando alla Oiran tutti i loro averi, fino alla loro disfatta. Infatti, se ricorderete, vedemmo questi tre individui nel capitolo 928, dove chiedevano a Komurasaki di riavere indietro il loro denaro, fallendo miseramente e venendo addirittura esiliati dalla capitale dei fiori. Quindi, stando a ciò, Komurasaki conosceva bene i loschi affari dei tre individui, quindi avrà cercato di porre fine a ciò, facendoli innamorare di lei e rubandoli di tutto il denaro che loro possedevano, facendo ovviamente fallire le loro tre losche attività. Quindi Ori alla fine è sempre stata buona, ma recitando la parte della bella Oiran riusciva a piegare quella gente che sfruttava, ingannava e rubava le brave persone. Però c'è ancora una domanda che vi pongo, ovvero, che fine facevano tutti i soldi che rubava questi tizi? La risposta ve la darò andando avanti con il video. Proseguendo, finalmente scopriamo qualcosa su Tonoyasu. Infatti, egli viene visto come una bravissima persona, dato che mette sempre tutto se stesso per aiutare tutti i cittadini più bisognosi del villaggio di Ebisu. Inoltre scopriamo che Toko è sua figlia e che Tonoyasu ha dovuto venderla alla capitale dei fiori. Infatti Toko, facendola a Kamuro, invia tutti i suoi guadagni al padre, per far sì che riesca a sopravvivere e che riesca ad aiutare la comunità di Ebisu. Io sinceramente non penso che una Kamuro guadagni molto. Quindi, molto probabilmente, Komurasaki potrebbe donare le parte dei soldi che ha rubato alle cattive persone. E questa è la mia risposta alla domanda che vi avevo posto precedentemente. Però c'è ancora un mistero dietro il sorridente individuo. Ovvero, come fa a conoscere i foderi rossi così bene, nonostante quest'ultimi non sappiano minimamente chi sia? A quanto pare anche Tonoyasu è un personaggio più importante di quanto dia a vedere, e spero vivamente di saperne di più, dato che mi incuriosisce molto, anche se vorrei ipotizzare qualcosa su di esso. Ovvero, io penso che Tonoyasu sia Sukiyaki, ovvero il padre di Oden e nonno di Momonosuke, nonché ex shogun di Wano. Il suo aspetto potrebbe essere cambiato drasticamente durante questi vent'anni, proprio come è successo all'ex capo della Yakuza. Vi ricordo inoltre che queste sono solo teorie. La scena si sposta alla miniera dei prigionieri, dove Rufi e Yogoro riescono a sconfiggere chiunque e gli si para davanti. Inoltre, veniamo a conoscenza che Laki, nel paese di Wano, viene chiamato Ryuo, che vuol dire Re Dragone. E non credo che sia solo una coincidenza che Kaido si trasformi proprio in un dragone. Il vecchio, durante il combattimento, cerca di insegnare Laki a distanza a Rufi. Infatti spiega che per colpire l'avversario senza toccarlo, deve far scorrere Laki superfluo che si trova nel proprio corpo e in seguito farlo fuoriuscire attraverso il pugno. Solo così riuscirà a colpire il suo avversario da lontano. Inoltre sembra che questo tipo di Haki dell'armatura segua una specie di concetto di flusso, molto simile all'aura di Dragon Ball. Infatti il Ki, o Aura, è un'energia, una potenza nascosta all'interno del corpo, che può essere rilasciata da un individuo in diverse forme. Quindi credo che entrambe le tecniche seguano più o meno lo stesso concetto, ovvero rilasciare e far fuoriuscire lo spirito e colpire l'avversario senza toccarlo. Comunque sia Rufi non riesce ancora a capire appieno come funzioni questa tecnica. E Quinn inizia ad innervosirsi, e decide quindi di porre fino alle lotte di sumo per quel giorno e manda tutti a dormire. Cappello di Pai e Yogoro rimangono al di sopra del ring, con ancora i collari attaccati al collo, ma per fortuna non possiedono le manette di agalmatolite. Infatti Rufi usa tranquillamente l'Aki del Re per far svenire le guardie. Così facendo può tranquillamente parlare senza che nessuno senta. Il Mugiwara dice che dovrà sconfiggere tutti e quattro imperatori, per riuscire un giorno a diventare il Re dei Pirati. Yogoro ovviamente conosceva Roger, e inoltre è rimasto scioccato nel sapere che Rufi conosce anche Kinemon. Ma il vero shock però lo hanno quando vedono Karibu con Ryzo all'interno di esso. Il ninja racconta tutta la storia del viaggio nel tempo e della rivolta che dovrà avvenire, e nel frattempo Karibu chiede a Rufi se potrebbe diventare un suo sottoposto, e soprattutto di salire sulla sua nave, dato che ora si è pentito delle azioni che ha compiuto in passato, e vorrebbe solo servirlo. Rufi accetta come niente fosse, perché crede che Karibu si sia realmente pentito. Quindi, stando a ciò, Karibu sarà un nuovo Mugiwara? Ni. Nel senso che, può e non può esserlo nello stesso momento, il Karibu di Schrödinger. A parte gli scherzi, penso che il leccato abbia in mente di usare la nave di Rufi per fuggire da quell'inferno. Però, penso che comunque sia, anche egli lotterà nella guerra contro Kaido ed Orochi, ed è possibile che così facendo si affezioni realmente a Rufi e alla sua ciurma. Ed inoltre, il leccato possiede un roggio alquanto interessante, ed utile, proprio come afferma Raizo. Quest'ultimo, purtroppo, ha sbagliato a rubare le chiavi, invece che rubare le manette di Rufi, ha rubato quelle per le manette di Karibu. Lasciando perdere questa piccola stupidaggine, devo dire la verità, a meno dispiacerebbe vedere il leccato in ciurma. Aspettate, non odiatemi. È davvero un personaggio stravagante e divertente, e pertanto si verrebbero a creare moltissime gag. E chissà, potrebbe davvero diventare utile a Mugiwara. È vero che ha già una ciurma, ma anche Jibbe ne aveva una. Quindi, penso che ci sia davvero una piccola probabilità che tutto ciò accada. Continuando, Yogoro spiega che all'interno della prigione sono imprigionati tantissimi ribelli che sono stati portati lì solo perché si erano ribellati ad Orochi, e che oltre a quella zona ci sono altre quattro aree simili. E in più ci sono anche tutti gli ex boss della Yakuza che sostenevano il paese. Essi sono gli stessi che decenni fa nutrivano un grosso rispetto per Yogoro. Quindi, se quest'ultimo chiedesse a tutti i prigionieri di combattere per la loro causa, sicuramente loro accetterebbero. Così facendo, il numero dei rivoltosi aumenterebbe considerevolmente. E per far sì che ciò accada, serve qualcuno che radia al suolo o distrugga tale miniera. E guarda caso, Big Mom è appena arrivata ad Udon, e si trova proprio fuori alla miniera dei prigionieri. Ed il capitolo finisce così. Che dire, finalmente nel prossimo capitolo vedremo l'arrivo di Big Mom. E speriamo che Oda non ci deluda. E soprattutto scopriremo finalmente l'aspetto di Kawamatsu. Ed inizierà il conto alla rovescia per la guerra, e nel mentre, Rufi verrà allenato da Yogoro. Così facendo riuscirà a sconfiggere Kaido, sempre secondo cappello di Paya. Ed io non vedo l'ora di vedere tutto ciò. Il video è finito. Volevo informarvi che ho aperto anche io un profilo Instagram. Se vi va di seguirmi, troverete il link in descrizione. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Publink, link in descrizione, e usando il codice ilGUR91, avrete diritto al 15% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo. Non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy, e noi ci sentiamo in un prossimo video.